freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Allora adesso visto che si parla di muoversi e di andarsene in giro direi che è il momento giusto per far venire sul palco Antonella Gallino che ci parla di sé in quanto ambasciatrice di Home Exchange che è uno degli sponsor del freelance camp. Quindi Antonella ti lascio la parola grazie. Grazie a voi. Allora io sono in doppia veste qui che è quella di felice freelancing proprio ma anche di rappresentante di Home Exchange che è il portale dello scambio casa. Come funziona? Ti iscrivi a questo portale metti a disposizione la tua casa che può essere una prima una seconda casa o una casa in affitto e abbiamo qui un esempio e entri in una rete di case messe a disposizione dove puoi viaggiare e puoi farlo per un weekend, per una vacanza o per un tempo più lungo. Ecco questa è la spiegazione. Mi fermo qui. In genere ci sono tantissime domande che sorgono spontanee su questa cosa che per me è un perfetto esempio, una perfetta applicazione di economia circolare applicata agli immobili e ho fatto già un talk in una delle edizioni del freelance camp dedicata alla sostenibilità online, quella di marzo. Magari potete rivederlo se non l'avete visto, se vi interessa la cosa che si chiamava appunto la mia esperienza con lo scambio casa e allora avevo ancora meno di un anno di esperienza. A questo punto ho 15 mesi e ho maturato 15 scambi. Sono circa, uno dice, una media di uno al mese. In realtà gli scambi totali sono la somma degli scambi in cui tu ospiti e in cui tu vai ospite. La cosa più importante da sapere è che non è obbligatorio che lo scambio sia reciproco. Cioè, lo scambio è nato negli anni 50. Il gruppo sociale, diciamo, che ha fatto nascere questa genialata sono gli insegnanti, che tipicamente hanno delle vacanze molto lunghe, alcuni avevano delle seconde case e si sono resi conto che potevano scambiarsele. Poi questa cosa si è evoluta, si è estesa. È nato poi un portale e forse qualcuno ha visto anche il film che ne parla, che è stato tradotto in italiano con l'amore non va in vacanza, dove viene svolto uno scambio reciproco. Oggi invece, con le evoluzioni di questo portale, lo scambio non deve necessariamente essere reciproco. Questo perché alle case viene assegnato un punteggio, un valore non monetario, a notte. Questo fa sì che se tu vieni a casa mia, mi riconosci questo punteggio a notte, io me lo metto nel salvadanaio di punti e poi con questi punti posso muovermi all'interno della rete di case di questo portale, ovunque. Quindi viene completamente, vengo liberata, svincolata dalla reciprocità e ho a disposizione case in tutto il mondo. Voi potete iscrivervi gratuitamente alla piattaforma e osservare e fare delle cose gratis. Poi per finalizzare il primo scambio, che sia in ingresso o che sia in uscita, dovete per forza sottoscrivere la membership, quindi pagare la quota. A quel punto lì la quota dura un anno. Se nel primo anno non doveste fare alcuno scambio, perché non ce la fate? Perché può succedere? Il secondo anno è gratis. Grazie a tutti.